Il trentesimo consorziato, ne aggiungeremo altri quattro e presto li presenteremo tutti, arriveremo a 34 consorziati, che è un bel numero che insomma ci inorgoglisce e ci fa pensare positivamente anche in prospettiva per il futuro. È un'azienda che ha sede a Montelabate, è stata fondata nell'80, c'è già la nuova generazione che la sta seguendo, fa utensili per il legno e per alcuni aspetti di questi utensili è anche leader a livello nazionale. Noi siamo sicuramente affezionati e legati al nostro territorio e ci sembrava importante unirci a una realtà come la VL che è sicuramente la prima realtà sportiva del nostro territorio. Produciamo utensili per la lavorazione del legno, utilizzati prevalentemente nelle industrie del mobile e poi sicuramente i nostri utensili sono applicati anche in altri settori ad oggi perché ci siamo comunque industrializzati sempre di più e quindi si applicano i settori come il PVC, l'alluminio e tutti i materiali di ultimissima generazione. Il nostro prodotto non è un prodotto B2C, è un prodotto B2B quindi diretto alle altre aziende, però sicuramente ci può mettere in luce a livello nazionale e magari anche oltre, anche se noi siamo già ben presenti all'estero perché sportiamo in oltre 40 nazioni nel mondo. Spero che ancora ci sia tanta gente che abbia voglia e piacere di abbonarsi, siamo a un buon numero però è ancora poco e quindi speriamo, speriamo che la gente capisca che può essere un campionato, non può, sarà un campionato molto avvincente, molto bello, molto faticoso ma abbiamo bisogno di quel calore che ci fa dare sempre molto di più.